Ehi, guarda, lui può suonare le partiture del basso insieme ai Pink Floyd in una realtà virtuale, fare i concerti a Wembley, nella realtà virtuale, capito? C'è una realtà virtuale in cui noi potessimo essere i presidenti della Roma, della Lazio, del Manchester, del Chelsea, e vinciamo la Coppa dei Campioni e ci compriamo Ronaldo, Ronaldinho, e facciamo bilanci da trilioni di euro, vinciamo la Champions League, capito? Tutto questo nella realtà virtuale, a sto punto la vita reale è diventata il posto più de' merda dove ti può dare capitante vive, te ne rendi conto, sì o no? Perché noi abbandoniamo... Lo do di più spesso abbandoniamo, vedo che va forte. Stanno più cotti di me questi, ridono fuori fase, capito? Sembra che stiamo a fare un spettacolo con il ritardo del satellite.